Genertel entra nel vivo del suo impegno per la sostenibilità con la piantumazione di circa 3.000 alberi nell'area di Udina. Oggi è un momento per noi importante, nel vero senso della parola la messa a terra del nostro impegno in quell'ambito. Noi un anno fa abbiamo lanciato un nuovo modello di fare assicurazione che prevede anche la possibilità per il cliente di interagire con l'assicuratore in maniera molto più continuativa e molto meno transazionale rispetto al puro momento della vendita. Questo prevede anche il coinvolgimento della nostra comunità di clienti all'interno del programma Be Good, un programma di social responsibility che consente ai clienti in funzione dei comportamenti responsabili di accumulare punti, che noi chiamiamo cuoricini, poi da convertire ogni anno da parte nostra in donazioni monetarie per diverse cause. Attualmente siamo attivi su tre, la salute, il sociale e l'ambiente. Oggi siamo qui per l'ambiente, quindi attraverso il nostro partner Arboglia per questo bosco rubano a Udine. I prossimi passi quali sono? Beh, i prossimi passi saranno innanzitutto di estendere il coinvolgimento della nostra community di clienti all'interno del programma Be Good. Abbiamo proprio di recente avviato lo spostamento graduale del portafoglio sulla nuova piattaforma, quindi i nostri clienti che rinnovano, rinnoveranno e faranno parte della nuova piattaforma e del nuovo programma. E poi l'altra direzione su cui andremo avanti è quello di estendere il programma Be Good e anche altre associazioni. Abbiamo già una short list e quindi prevediamo il prossimo anno di avere almeno altre due o tre associazioni coinvolte nel programma. Grazie.